Musica Musica Oggi parliamo di un paio di cuffie sportive che mi hanno davvero colpito per qualità audio e soprattutto per il posizionamento saldo e preciso che garantiscono nelle orecchie durante l'attività fisica. Syncros Reflect Bluetooth Questo il nome del prodotto sportivo entry rival di JBL, vero colosso del mondo dell'audio, che non accetta compromessi in fatto di qualità del suono. Non si tratta di auricolari economici e la confezione è infatti piuttosto curata. All'interno fanno bella mostra gli auricolari veri e propri, un piccolo cavo di ricarica e un set di gommini per adattare le cuffie a varie tipologie di orecchio. Gli auricolari sono piuttosto semplici nella forma, senza particolare enfasi sul design. Non sono esageratamente piccoli, ma l'idea è stata quella di ridurre le dimensioni senza compromettere troppo la durata delle batterie. Salta subito all'occhio la generosa superficie dei driver da 8,5 mm, che come vedremo garantiscono una qualità di ascolto decisamente superiore. Fa storcere un po' il naso la mancanza di una custodia per il trasporto. Tuttavia il cavo piatto è perfetto per evitare aggrovigliamenti, molto resistente e semirigido, ottimo per un uso dinamico. Le cuffie si possono quindi lanciare in borsa senza particolare cura ed estrarle al bisogno senza paura di rovinarle. Da notare che la parola Reflect all'interno del nome fa esplicito riferimento alla sua feature più interessante. Il cavo è rivestito con una speciale vernice catarifrangente, che permette di essere facilmente visibili e di rendersi evidenti ai fari delle auto. Aggiunge un tocco di sicurezza e visibilità posteriore durante un allenamento serale. Sul cavo è inserito un piccolo blocco in plastica, che permette di regolare a piacimento la distanza tra gli auricolari, in modo da prevenire rimbalzi indesiderati durante la corsa. È poi posizionato un piccolo telecomando che permette il controllo delle tracce, e monta all'interno anche un microfono per le chiamate. I bottoni sono un po' troppo simili tra loro ed è facile confonderli, mentre l'audio delle telefonate è decisamente buono sia in entrata che in uscita. Gli auricolari sono sweat proof, il che significa che non rischieremo di rovinarli con il nostro sudore, e sopporteranno anche un veloce risciacquo a patto di non introdurre direttamente l'acqua nei driver. La caratteristica più interessante però è come si comportano indossate durante la corsa. I gommini in dotazione, di tre misure differenti, sono estremamente confortevoli e si adatteranno alla stragrande maggioranza degli utenti. Il morbido gancio si innesta nel padiglione auricolare, e consente di compiere qualsiasi movimento anche brusco senza paura di perderli. Complice il peso modesto, finalmente un paio di auricolari di cui ci si può davvero dimenticare durante l'attività sportiva. Feature molto utile è inoltre la presenza di una coppia di magneti, che permettono di unire i due auricolari una volta a riposo attorno al collo, per evitare di perderli o di urtarli contro qualcosa. Trattandosi di cuffie in-ear, l'isolamento garantito dai gommini è davvero molto buono. Sul terminale di sinistra è stata posizionata una piccola sporgenza, per riconoscere attraverso il solo tatto cosa si sta impugnando ed indossare così al primo colpo, nel modo corretto, le cuffie. Nell'auricolare destro è presente un piccolo sportellino per la ricarica, che avviene tramite un semplice cavo micro USB. La batteria è dignitosa e la durata si attesta attorno alle due ore, in linea con i concorrenti e subordinata alle piccole dimensioni dell'apparato. Nella parte inferiore è posizionato anche un piccolo LED, che indica lo stato di ricarica. Dal punto di vista acustico, come anticipato, grazie ai driver generosi e alla classica attenzione di JBL, il suono risulta molto aperto, chiaro e cristallino. Si tratta di auricolari molto concentrati nella fascia delle frequenze medio-alte, con un certo sacrificio di quelle più basse. Non distorce agli alti volumi e c'è una degna separazione degli strumenti. In definitiva, la comodità di avere delle cuffie bluetooth durante lo sport all'aria aperta o mentre ci si muove per la palestra è impagabile. E JBL, con questo modello, permette di non rinunciare ad un ascolto pulito delle proprie tracce preferite. Se il prodotto vi interessa trovate il link in descrizione, ma se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace ed iscrivetevi. Noi ci rivediamo al prossimo video.